Così va bene, no? No, no, tranquilli Aspetta, che siamo? Senta tranquilli Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Bentornati ragazzi qui a vostro Nuovo Electric E bentornati in un nuovo video del canale Video? Avevo capito che eravamo qua per una challenge Ah sì? Una challenge? Sì E che challenge era? Non lo so E vi ho detto vieni qua, sono le due di notte e vi ricordo Stai fatto che abbiamo due pennarelli perché non so quale video funziona Una tavolotta di regno per scrivere qualcosa E delle etichette alimentare Noi scriveremo dei nomi di qualcuno E dovremo indovinare Ce lo appiccicheremo da qualche parte magari sull'occhio di quell'altro E dovremo indovinare È tipo un indovina Kim Esatto È anche detta post-it challenge Però vabbè Noi la chiamiamo e faremo tre round Da quanto ho capito Adesso vediamo Sì tre Sì se non ce ne durano cinque anni Intanto che fare il suo call Finalmente E procediamo con la prima sfida Prima sfida Adesso a poco È all'incontrarlo Non si vede Sì Post-it Aspetta Sì allora adesso ci fattirano inizia l'ospice vai sono un maschio o una femmina? un maschio ok sono uno per for... non so parlare sono una persona famosa o no? no ok faccio parte di un videogioco? no mi sembra un po' con niente maschio una femmina sono una persona famosa? si ok sono un youtuber? si ok 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 più 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 di un milione di iscritti ok il suo color preferito è il rosso no no ha fatto una maglietta quando andosso una maglietta a scacchi rossa e nera? no e allora ne ho già tirato via uno gioca Minecraft ok il mio gioca Minecraft poco 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 cioè in genere ok cioè non è il suo genere preferito però si ma adesso come il preferito è il giallo no no ha fatto gameplay di fifa? mi pare di no però non me lo ricade di no mi sembra comunque di no ok non è uno che fa gameplay ma non è uno che fa gameplay ok per lo stesso ho capito chi sono però mi serve un'altra domanda è uno fuori di testa bocca di tantissimo è proprio quello più fuori di testa che io abbia mai conosciuto vabbè per me e fa tipo crea oggetti utensili e altra roba no ma che cazzo allora mi hai tenuto via proprio quello che che ho in mente sono io eh sono io tu ah si ma che cazzo ero io scusa no adesso ah ah tira forte vegas vegas che cazzo è come che cazzo è sono venuti via 5 capelli per vegas stronzo eh vengo a vengo a a chiederti i soldi a casa quello è il risarcimento si il risarcimento comunque l'hai fatto io vlog ah mi ha rotto i capelli mi ha rotto i capelli non si può passiamo al round 2 passiamo al round 2 speriamo che venga meglio se indovinare che è di te è impossibile era facilissimo ti leggo nel pensiero è stato bravo non metterlo sui capelli mi fa piacere non metterlo sui capelli ah che bello sicurissimo anche se non la vedete dopo metterò il titolo del bigliettino a video che basta è impossibile vecchio se boh ok inizio vai eh faccio parte di un videogioco? no decisamente no è una persona comune? no ok è un uomo o una donna? eh qua non lo so non lo so non lo so non lo so ok non so se sto inizionando a capire non parte di una serie televisiva eh ancora è difficile comunque è stato in tv cioè è comparso in tv sicuramente dai qualche pubblicità ci sarà stato sicuramente sono giovane oppure rito giovane tanto ok che troia chi è? questo è vero a più di 20 anni eh a più di 20 anni ma no 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 madre e ok aspetta un'altra persona ti sto parlando adesso? sì sono io sì ma cadi ah difficile dirlo ah ma sì la sentia di micro è scritto di merda è una roba di merda cioè ma hai visto anche in prima elementare raga ci sono le cigne qua su sì ah 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 ma che sì vabbè oh siamo uno a uno uno a uno difficile dirlo maschio o femmina ah caprano questo qua è anche cioè la penitenza la penitenza è togliersi ma no se lo sai dove è stronza ah 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 È una parte del gioco? Si Bona Eh vedi che è tanto dubbio questo no Sono un uomo o una donna? Un uomo Sempre uomini ovviamente Eh sempre uomini ovviamente Escluso lui Usa una spada? No Che cazzo è? Guarda Io lo conosco Non di persona ma lo conosci Cioè l'hai già sentito sicuramente Aspetta No Hai capelli neri Si Si Cazzo è? Sto tipo che ha 200 iscritti che ha un laboratorio Fa challenge? Ho fatto mai delle challenge? No E poi tutte le donne sono moltine qua Perché le mie sono nella lava Cazzo Di lotta Capelli neri Giappone Cazzo Mmm C'è una macchina sportiva? No Che cazzo È di lotta non di corsa Perché lo so? È di lotta C'è una macchina Si dovrà pure spostare Rulof Vada Oh Mi hai detto che non era lui bastardo Mi hai detto troppo E io non avevo capito a chi Avevo capito che pensai di Dexter Tira Tira Ah Oh adesso aspetta Aspetta Si c'è pieno di capelli Porca trono Adesso 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 Te lo voglio fare indovinare Quindi continua a fare domande Vai G E la prima cos'era? G G Go Goffo No Goffo che? Go Che cazzo? Go? C'è un nemico principale C'è un nemico principale Devono sempre combattere contro un nemico ogni volta Capelli neri Perché c'è poi quello dei capelli neri? Allora adesso ti do l'ultimo indizio Che proprio capelli neri può farli diventare biondi Oh Mau Guarda cioè adesso Sono sicuro che può darsi che non lo conosci ma mi sembra impossibile Può farli diventare biondi Può farli diventare anche più lunghi I capelli Biondi oro Che luccicano Veste di arancione? Si Ok forse ci siamo allora Ancora se pensi Go? Ehm Goku Go Grazie Grazie Dio Grazie Com'è possibile tutte ste ore per Goku E non c'è niente qua sopra Mentre lui ci ha perso i capelli Ricordiamolo Vediamo i danni subiti Io avrei già indovinato dal secondo turno che era su qua Beh comunque andate a vedere se ha pochi iscritti Andate a vedere, passate sul canale di Rulof E ha 3-4 in realtà i canali Cioè Rulof 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 Crea tutto Passate dal canale di Goku Sì poi passate dai miei altri carabili che sono nel cestino Ho finito la challenge ho vinto io Ho vinto perchè hai fatto delle cose Sì vabbè ho vinto però ho perso perchè ho perso i capelli Sì Si può arrivare c'è un buchetto Eh vabbè Perché è proprio il segno C'è proprio il segno del Vabbè lasciamo stare Che dire Che ci ho perso l'anima ovviamente Ah sì come penitenza adesso devo mettertelo proprio uno sui capelli Che hai perso Ah sì ma mettere uno nuovo al manto Ah sì La penitenza è proprio diretto sui capelli Sì Vabbè No anzi adesso togli gli occhiali devo metterlo dove voglio Ne usciamo abbastanza il lazy Sì Eee Ne faremo altre Metto gli occhiali sennò non vedo neanche la Il videocamera Anche No anzi 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 No anzi